Oggi siamo venuti a trovare dei ragazzi, gli Hunter Brothers, che sono sempre più famosi. Chi sono? Alcuni di voi si domanderanno. Sono cacciatori di fantasmi e non solo. E ce lo spiegano nel dettaglio proprio gli Hunter Brothers, i cacciatori fratelli, che sono proprio qua accanto a me. Sandro Minerva e Pasquale Minerva, insieme ai loro amici e collaboratori che poi conosceremo come è la logica delle nostre interviste. Ecco, la prima domanda. Chi sono gli Hunter Brothers? Sandro Minerva. Gli Hunter Brothers è un gruppo di ricerca che nasce nel 2001, il primo team in Italia che si occupa di fare indagini per quanto riguarda il paranormale. È nato una sera per gioco, così per curiosità, io e mio fratello ci siamo raccontati le nostre esperienze. e abbiamo deciso di cercare quel qualcosa che abbiamo raccontato, quindi la prova effettiva che quello che avevamo vissuto non fosse solo immaginazione. Insieme a Roberto, Gian Caterina, il nostro amico, è nato così il team. All'inizio abbiamo iniziato a girare nei posti dove c'erano le leggende le più famose del Lazio e per gioco abbiamo istituito un sito internet che in pochissimo tempo ha riscosso un enorme successo tant'è vero che sono arrivate le prime chiamate per le indagini nelle abitazioni private. Ecco, e allora a tuo fratello, a Pasquale, chiedo, vi arrivano delle segnalazioni e voi che fate? Qua poi vediamo insieme al nostro Roberto Lombardino tante tecnologie che poi magari vedremo nel dettaglio per quanto possibile. Ecco, Pasquale Minerva, vi chiama qualcuno che sente, vede, pensa di avere un fantasma? In qualche parte voi andate a fare le ricerche, siete una sorta di acchiappa fantasmi? Esattamente, Emanuele. Noi riceviamo delle chiamate, ovviamente la prima cosa che facciamo è un pochettino catalogarle perché sappiamo benissimo che a volte tanti avvistamenti, tante sensazioni che le persone provano sono solo quello, cioè una sensazione. Quindi facciamo una prima selezione delle chiamate e dopodiché facciamo il preliminare. Quindi ci accingiamo presso le località, presso i luoghi o di chi ci chiama e facciamo una prima indagine per capire un attimino di cosa si tratta. Infatti in questi anni poi ci siamo anche informati per tutto ciò che potrebbe sembrare un caso paranormale che poi però effettivamente non è tale. Tant'è vero che la strumentazione che puoi vedere qui davanti al tavolo ci aiuta proprio a fare questo. Quindi ad eliminare tutti quei sospetti che la tecnologia di oggi potrebbe far sembrare una cosa strana, una sensazione che è dovuta a pura tecnologia, quindi a campi elettromagnetici o a interferenze. E poi sono scambiati per fantasmi, spiriti e similari. Ecco, Roberto e Giancaterina, volevo fare una domanda in questo senso. Spesso ci si scontra un po' con l'incredulità di tante persone, molte persone non ci credono. Ecco, a lei cosa spinge a far questo tipo di lavoro? O di passione insomma? Sì, premetto che non è un lavoro, noi facciamo tutto a titolo gratuito. Sicuramente la curiosità, la voglia di vedere cosa c'è al di là di quel velo che poi comunque è difficile oltrepassare. È un insieme di sensazioni, di cose che vogliamo anche cercare di scoprire, quantomeno di scremare. Lo scopo nostro principale è quello di raccogliere dati e catalogarli, valutando quelli che possono essere più o meno paranormali. Tutto il resto cerchiamo di toglierlo. Ecco, a lei mi sembra molto tecnico. Qua abbiamo tantissimi strumenti, non li possiamo vedere tutti. Ce ne può prendere qualcuno, magari dirci a cosa? Ecco, per esempio, questo qui, con l'aiuto di Roberto Lombardino, questo qui, che ce lo fa vedere, questo qui che mi sembra un po' particolare, l'ho visto poco. Che cos'è? Questa è una termocamera di infrarossi. Facciamolo vedere anche, ecco, in favore. Termocamera infrarossi? Sì, esattamente. È una termocamera. Che serve? È una termocamera, appunto. Serve, trasforma, diciamo, i rilevamenti dei raggi infrarossi in termici. Praticamente ci permette di rilevare le temperature superficiali del punto in cui noi la stiamo puntando. Questo perché? Perché la teoria vuole che, diciamo, durante un'eventuale apparizione ci sono delle variazioni di temperatura. Questo dovrebbe permetterci, diciamo, di valutarne l'entità. Tra l'altro ci aiuta anche molto nei casi, diciamo, reali, in cui poi c'è un innalzamento di temperatura dovuto magari, non so, a un quadro elettrico, un strumento elettronico. Lui lo evidenzia e ci permette poi di vedere questa variazione. Quando è che suona il campanello d'allarme vedendo questo monitor per lei? In realtà non è solo questo che fa la ricerca, è tutto questo che fa la ricerca. Vediamo qualche altro strumento, magari quelli più particolari che la gente conosce meno. Questo, ad esempio, è un rilevatore di campi elettromagnetici. È molto particolare perché taglia fuori delle frequenze che normalmente vengono registrate, che esistono sia in natura che artificiali. Ad esempio quello del cellulare, che può capitare spesso. Tutto quello che va al di là di una certa taratura, praticamente ci permette poi di... Ecco il campanello d'allarme che ci dice forse sta succedendo qualcosa di strano. Vi siete mai messi paura? Sì. Quando? Voi girate tutta Italia, anche se vi ho visti molto presenti nel Lazio, no? Sì, noi principalmente lavoriamo nel Lazio, però ci spostiamo. Se la meta e l'indagine vale lo spostamento, lo facciamo. Paura a me personalmente un paio di volte, soprattutto in abitazioni private, che poi sono i risultati che abbiamo raccolto con quasi più certezza. Insomma, quei risultati che al momento ci stanno ancora facendo studiare sul caso e ci hanno fatto tornare sul posto. In un'abitazione privata a Pomezia, sto facendo un'indagine con Christian, mentre utilizzavo proprio la termocamera, è apparso sul materasso un'impronta di una mano. non c'era nessuno lì sul letto, quindi ci ha colpito molto, ha colpito soprattutto anche il proprietario di casa che ha chiuso l'indagine lì sul momento e ci ha mandato via proprio per una paura sua personale. Però ha colpito anche noi. Avete registrato queste cose? È tutto registrato, ne abbiamo fatto un video che è sul nostro canale YouTube. L'indagine è ancora aperta perché siamo tornati sul posto e sono risultati una voce che risponde a una nostra domanda. e quindi torneremo sicuramente sul posto per ulteriori indagini. Quali sono gli indirizzi principali dove cercare gli Hunter Brothers? Noi abbiamo un sito internet che ovviamente è hunterbrothers.it lì possono trovare tutti i nostri contatti, hanno a disposizione proprio i nostri cellulari, quindi possono proprio contattarci personalmente o magari ci mandano un'email con delle prime fotografie, con delle prime registrazioni sonore dove noi possiamo fare un preliminare. Perché prima di andare sul posto cerchiamo di studiare dal nostro ufficio di che cosa si tratta, cosa potrebbe essere e cosa andiamo incontro. Quando è che scatta in voi, perché immagino che ho capito che sia un lavoro però non è retribuito, insomma c'è grande passione, quando è che scatta in voi la decisione di partire da Roma, voi state sulla Tuscolana e andare in un posto che comunque implica tutto uno sforzo di spostamenti, di produzione, di viaggi e di varie cose? Sentiamo la cosa che ci dà delle sensazioni molto forti e magari proprio la persona che ci chiama, quindi cerchiamo di captare se effettivamente chi ci chiama è una persona che ha dei sentimenti forti, quindi ha delle sensazioni forti e dopodiché è il nostro senso senso, nel senso che partiamo e andiamo proprio a vedere. D'altra parte siete hunterbrothers, nel senso senso è decisivo. Roberto di Giancaterina, io qua vedo, se siete qui vaggiati bene, c'è anche un drone qua aereo che vola, che ci fate col drone? Allora il drone ci aiuta tanto ad arrivare nei punti dove normalmente non possiamo arrivare, per fare delle riprese aeree, per fare dei sopralluoghi, a volte l'abbiamo fatto entrare anche in dei gunigoli molto stretti, è difficile guidarlo, devo essere sincero. Non è solo questo che abbiamo a disposizione, abbiamo anche un drone terrestre, costituito da una macchina radiocomandata, assemblata ad hoc per le circostanze. E poi ci vuole un po' anche un po' di ingegno nel costruire e inventarsi determinati apparecchi, che magari proprio in commercio non ci sono per, lo dico tra virgolette, acchiappare i fantasmi. Sì esattamente, bisogna poter cogliere l'attimo, bisogna anche ingegnarsi in quanto, non è una scienza in realtà, è una cosa che ci siamo un po' inventati, per cui anche assemblare dei dispositivi fa parte del gioco. E' uscito anche un libro, che è proprio Ghost Hunter. Noi qualche mese fa siamo usciti con il libro, lì racconta le nostre indagini più famose, quelle che ci hanno colpito più, o per quanto riguarda i sentimenti o per i risultati stessi, e come si fa un'indagine. Il libro è stato edito dalla Eremon Edizioni, è disponibile su tutti i canali online e in ogni libreria. Ma il team vostro è di quanti ragazzini è composto? Siamo composti, il team è composto da otto persone, io Pasquale e Roberto, dietro di noi c'è Valentina De Rossi. Ecco, Valentina cosa fa? Io spalleggio diciamo un po' il gruppo, sono nel gruppo da soli due anni, quindi diciamo sto ancora imparando. Insomma, fai parte del gruppo, accanto a te c'è? Valeria. Che fa? Il suo stesso compito. Ok, spalleggi, mentre qui alla mia sinistra abbiamo? Cristian, spalleggiamo tutti. Spalleggiate tutti. Spalleggiate tutti. Tre, sei, otto hai detto? Otto, manca Simone e Andrea Acchio che non è potuti intervenire, e Alessia Gianfortone che per lavoro anche lei non è intervenuta. Loro spalleggiano, il loro spalleggiate significa comunque fare i ricercatori durante un'indagine e soprattutto le ragazze si occupano di quel lavoro di cui parlava Pasquale prima che è la scrematura delle chiamate e delle segnalazioni. Ecco, l'incinocchiatoio, chi mi vuole rispondere? A cosa serve? Pasquale. Allora, l'incinocchiatoio è una nostra idea perché da quando è uscito il fumetto ovviamente noi ci proponiamo in fiere o magari ci chiamano per pubblicizzarlo un pochettino allora ci siamo inventati questa cosa che è molto simpatica perché durante le nostre rappresentazioni le persone si possono inginocchiare o magari avvicinare e attraverso l'incinocchiatoio raccontano la loro paura, i loro incubi a Natasha Iadarola che è la disegnatrice del fumetto e lei in qualche tavola gli rappresenta la loro paura quindi questa paura alla fine se la possono portare anche a casa e magari una sorta di esorcizzare questo loro incubo. Oriente del Brades, magari ci vedremo altre volte per andare proprio sui posti dove ci sono degli avvistamenti particolari magari mi risegnate, mi risegnate, veniamo con le telecamere di T9 vi salutiamo, vi ringraziamo, ricordiamo la vostra sede è qui in via Tuscolana 1806 d'accordo, allora grazie e questi sono gli accampi a fantasmi romani diciamo anche italiani che abbiamo trovato noi e è un modo per industriarsi ma anche per colmare una passione importante credo, no? Sì sì, ormai prende gran parte della nostra giornata tra segnalazioni, lavorazioni e curiosità personale ormai si è diventato importante per ognuno di noi. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!